Ciao a tutti, mi chiamo Angelica e mi sono laureata presso l'Università degli Studi dell'Insubra nel settembre 2013. Sono qui a consigliarvi il corso di studi specialistici in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, in quanto, oltre a fornirvi delle solide basi quantitative che sono fondamentali al giorno d'oggi nel mondo del lavoro, vi fornisce una solida cultura aziendale e finanziaria, delle solide conoscenze degli istituti e degli strumenti del diritto civile, commerciale, tributario, fallimentare, ecc. Gli sbocchi sul mondo del lavoro poi sono molto interessanti, parliamo di istituti finanziari, organi di vigilanza, banche, assicurazioni. Nel mio caso specifico, io mi sono tuffata nel mondo delle assicurazioni, quindi le solide basi quantitative, ma anche gli elementi di diritto che ho acquisito nella mia formazione universitaria, mi hanno aiutato a superare con successo le selezioni in grandi aziende. Ho lavorato all'estero per molti anni e adesso mi sono specializzata con un master post laurea in gestione delle assicurazioni. Devo dire che sono stata molto facilitata in quanto avevo già delle solide basi. Il mio consiglio quindi è quello di sviluppare le vostre conoscenze a 360 gradi, quindi ovviamente farvi una base molto solida di tipo numerico, ma anche di interessarvi del mondo della finanza e del mondo degli elementi giuridici.